Dopo il grande successo della prima edizione, torna la rassegna Vedi Napoli Poi Mangia, ideata, promossa e finanziata dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli. Il programma è stato presentato alla stampa dall'assessore Teresa Armato e dall'antropologo Marino Niola, supervisore della rassegna. Ci sarà anche un momento di dimostrazione, uno show cooking, diciamo per quanto molto limitato e artigianale. Ci saranno degli chef particolarmente rinomati che ci accompagneranno anche da questo punto di vista. Obiettivo di Vedi Napoli Poi Mangia è raccontare la tipicità gastronomica della città, con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative. Curiosità e aneddoti sulla cucina napoletana e sulla sua vocazione internazionale, show cooking, degustazioni e performance artistiche. Dal 28 marzo al primo maggio degli appuntamenti gratuiti toccheranno diversi luoghi della città, componendo così uno straordinario percorso del gusto. Il casatiello è una rottura di tutti i tabù alimentari. Noi arriviamo da Pasqua, dalla penitenza di Pasqua e poi improvvisamente ci spariamo questa overdose proteica che è il casatiello. Quindi da questo punto di vista io direi che è una cosa da raccontare. Poi c'è un'altra cosa, noi non dobbiamo dimenticare che siamo in un territorio particolare dove in realtà non c'è nessuna differenza. C'è un solo intreccio fra i capolavori del gusto e le cosiddette cattedrali culturali, pinacoteche, conservatori e tutto il resto. Questa è la città dove Casatiello fa rima con Paesiello e Stanzione con Maccherone. Grazie a tutti.